Salve a tutti ragazzi e bentornati su Mitch Tuning Oggi farò un video molto diverso Quindi un video teorico su cose c'è da sapere sulle lampadine per auto Quindi intro e poi cominciamo subito a parlarne Bene, come tutti ben sappiamo l'evoluzione della lampadina negli ultimi tempi ha avuto uno sviluppo elevatissimo Oggi sono presenti almeno tre tipologie di lampadine Ovvero quella alogine, quella aloxia e non è quella a led Ma le domande che tutti ci poniamo e che trovo sempre e dico sempre sui social sono queste Se sono tutte uguali, quale differenze presentano, quale conviene comprare e se sono legali o illegali Quindi cominciamo subito a parlare delle lampadine alogene Queste sono le classiche lampadine a filamento unico o a doppio filamento Quelle a filamento unico sono le H7 che hanno funzione di anabagliante o abbagliante Mentre le H4 che hanno il doppio filamento hanno funzione sia abbagliante che anabagliante Queste hanno un consumo generale di 55 watt ma può variare Hanno un'illuminazione minima necessaria per la nostra sicurezza in strada Hanno una luce giallognola di solito ma adesso fanno anche quelle tendenti a bianco Hanno una durata molto breve e un prezzo molto basso Quindi come si suol dire poco valere e poco costare Passiamo alle lampadine alexenon che è un livello molto più alto Questa funziona con degli elettrodi, un bulbo e un gas all'interno Queste consumano 35 watt in generale ma possono consumare anche di più o di meno Hanno un'illuminazione molto elevata rispetto alle lampadine alogene Hanno una luce tendente all'azzurrino ma adesso fanno gradazioni anche differenti Hanno una durata in media di 3000 ore, questo ovviamente dipende E un prezzo elevato rispetto alle alogene E quindi passiamo alle lampadine a led che sono quelle un po' di ultima generazione Queste funzionano con dei semiconduttori e con il passaggio di corrente all'interno della lampadina Infatti hanno una centralina che regola tutto ciò e scaldano veramente tanto Infatti le lampadine a led sono dotate di un dissipatore di valore Che può essere a ventola o a fasci, non mi ricordo bene Ma quelle a ventola sono le più consigliate perché non rovinano il faro all'interno Queste hanno un consumo energetico molto ridotto rispetto alle altre Infatti consumano di serie 15 watt ma possono consumare anche di più o di meno Hanno un'illuminazione elevata ma non come quella dei Xenon Quindi sono leggermente meno profonde Ma la luce è molto più uniforme e illumina meglio le immagini a noi davanti E il fascio luminoso si sposa a seconda di noi dove andiamo Quindi è più sicura rispetto alle altre due Ha una luce bianco puro, 6.000 Kelvin ma adesso fanno colorazioni diverse Può essere anche ambra o tendente all'azzurro Ha una durata in media di 5.000 ore quindi dura molto molto a lungo Ma appunto hanno un prezzo molto molto elevato Andiamo al prossimo argomento che è quello un po' più gettonato Ovvero se sono legali o illegali Io vi parlerò del paese italiano dove le lampadine Xenon sono completamente illegali Quindi se non di serie è uscita però una regola È solo una regola ragazzi Che se non superano i 25 watt non hai bisogno del lavavari Quindi in questo caso forse sei meno sgamabile dalle autorità stradali Mentre per quanto riguarda la lampadina a LED Queste ovviamente sono legali di serie Però è uscita nel 2013 una legge dal Ministero dei Trasporti Che afferma che possiamo aggiornare il nostro faro Per ragioni appunto di sicurezza o quel che sia Cambiando le lampadine e il faro stesso Da un'officina di riparazione autorizzata Che omologa il faro, il tutto E viene aggiornato il libretto di circolazione Con una relativa etichetta che autorizza il cambio In più un'altra regola che sui fari a LED deve essere rispettata È che non si possono installare più di due dispositivi DRL Quindi qual è la lampadina migliore? La lampadina migliore secondo me è la lampadina a LED In quanto è molto reattiva Quindi hai molto più tempo per frenare E quindi sei molto più al sicuro Da una frenata brusca davanti a te Hai un fascio luminoso più uniforme Più pulito e appunto come dicevo prima Che segue i movimenti della macchina Quindi è più sicuro e ci vede meglio Ha un consumo energetico veramente veramente ridotto Quindi il consumo di carburante viene anch'esso ridotto E la durata è elevatissima Può durare come la macchina Se la lampadina che sia LED Xenon Non ha appunto un buon faro di appoggio Non ha la luce Può essere fortemente penalizzata Guardando il rapporto qualità prezzo La lampadina all'Oxenon è quella che vi consiglio io Perché come caratteristiche è quella di mezzo E come prezzo pure Quindi se questo video ragazzi vi è piaciuto Spolliciate, iscrivetevi se non l'avete fatto Iscrivetevi su Instagram e sulla pagina Facebook Lascio tutti i link in descrizione Se questa serie di video teorici vi è piaciuta Commentate Se volete maggiori informazioni per quanto riguarda la lampadina LED Xenon Scrivetelo sotto che sono pronto a farvi altre presentazioni E un like per l'impegno ragazzi Perché vi assicuro che fare tutte queste cose È molto impegnativo Quindi per questo video vi saluto Ciao a tutti ragazzi Ciao a tutti